Buongiorno a tutti, benvenuti, io mi presento, sono Alessandra Corneros, responsabile dell'ufficio a gestione documentale di Formex PA e oggi ho il piacere di darvi il benvenuto a questo webinar che si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Emilia-Romagna, in particolare Pari, Servizio Parer e Formex PA webinar il cui affronteremo con i nostri relatori che vedete qui nel programma il tema del governo degli archivi ibridi e in cui verrà presentata in particolare l'esperienza dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. Il primo dei relatori di oggi è Giampiero Romanzi della soprintendenza archivistica e bibliografica della Regione Emilia-Romagna che vi introdurrà al tema, nonché ai diversi interventi, oggi ne abbiamo parecchi, che seguiranno dopo di lui. Mi affretto dunque a dargli la parola, proprio in considerazione dei molti relatori invitati che ringrazio fin d'ora così come ringrazio Giampiero e vi ricordo che potete come sempre porre le vostre domande in chat e che alla fine del webinar come da programma è previsto uno spazio dedicato alle risposte. Le slide e le registrazioni e le presentazioni saranno disponibili nel pomeriggio. Quindi chiedo adesso a Giampiero di collegarsi, eccolo qua è già qui e gli do la parola. Grazie Giampiero e buon webinar a voi e a tutti. Grazie a te Alessandra, spero mi sentiate bene. Ringrazio naturalmente in sede introduttiva Alessandra Cornero e Stefania Mulas del Formez che ci assicurano sempre una conduzione, un'organizzazione esemplare di questi incontri e molto utili anche per condividere esperienze reali, fattive insomma, no? Il tema di gestione documentale. Questo incontro come quelli che già abbiamo svolto su questa piattaforma con il Formez, con il Parer, vengono concepiti, sono stati, è stato concepito insomma all'interno della comunità tematica dell'agenda digitale dell'Emilia Romagna. C'è una comunità tematica che riguarda la documentazione digitale, quindi l'approccio ad una gestione documentale chiamata ad impattare e la transizione digitale, ma anche naturalmente tutto quello che è gestione archivistica tradizionale. È per questo che abbiamo scelto di presentarvi una esperienza che presenta a nostro avviso, quella dell'agenzia del lavoro della regione Emilia Romagna, che a nostro avviso presenta diversi aspetti di interesse. Innanzitutto c'è il tema appunto del passaggio di competenze, cioè la necessità di gestire la documentazione di enti che cessano di esercitare determinate competenze, che hanno prodotto una corposa documentazione, che però sono chiamati a conferire questa documentazione a terzi, quindi a nuovi enti che ereditano queste funzioni. Questo è un tema abbastanza diffuso sia perché, per due motivi, insomma, sia perché, diciamo, le modifiche, insomma, degli assetti istituzionali delle competenze sono state abbastanza numerose all'indomani delle Bassanini, insomma, dalla fine del secolo scorso, potremmo dire, quindi dalla fine degli anni 90 del secolo scorso ci sono stati diversi passaggi di competenze, diversi riassetti istituzionali che hanno investito naturalmente la gestione archivistica. Nel ciclo di vita di un ente pubblico questi sono passaggi cruciali in cui il tema della gestione documentale viene prepotentemente a galla, si potrebbe dire, e quindi laddove ci sono stati, insomma, ci sono state gestioni oculate attente di governo, appunto, abbiamo scelto questo termine non a caso, di governo degli archivi, le cose vanno in un certo modo, insomma, laddove invece ci fossero state negligenze o disattenzioni, è chiaro che tutti questi aspetti, questi frangenti di passaggi di competenze vengono a gallo. Quali sono brevemente gli aspetti, a mio avviso, importanti di questa esperienza? Beh, innanzitutto appunto il fatto che in questa esperienza si incarna uno degli assunti che noi sottolineiamo costantemente, ma che sembrano così ripetuti in astratto, sembrano, come dire, principi astratti, e cioè che l'archivio è il reale motore dell'azione amministrativa. Ne è il precipitato, cioè l'archivio consiste nel prodotto dell'azione amministrativa, però non è soltanto in questo senso monodirezionale che noi possiamo vedere l'archivio, perché a sua volta la sedimentazione di informazioni, di documenti, questo patrimonio documentario che l'ente produce diventa a sua volta il motore dell'azione amministrativa. Ecco, è molto interessante la vicenda dell'Agenzia Lavoro della Regione, perché appunto nel momento in cui questo ente nel 2015, a seguito della legge del Rio del 2014, che ridisegnava le competenze delle province, quindi toglieva le province di fatto la competenza dei servizi per il lavoro, insomma si è trovata la Regione a dover esercitare la competenza dei servizi per il lavoro e naturalmente si è posto subito e prepotentemente il tema archivistico, cioè il recupero di informazioni e documentazione sui servizi, sulle competenze, sulle attività, non solo di un ente che ha preceduto la Regione, ma bensì di nove enti, di nove province che si trovavano a questo a dover, come dire, passare le funzioni alla Regione. Quindi, senz'altro il primo aspetto da sottolineare è questo, l'archivio è stato il motore, in questo caso, del decollo dell'azione amministrativa, della ristrutturazione delle fasi dell'azione amministrativa e dei servizi regionali in materia di lavoro. Un altro aspetto importante di questa vicenda, come vedrete dalle relazioni che seguiranno, è quello appunto del peso logistico organizzativo degli archivi. Nel momento in cui l'Agenzia si è trovata in qualche modo titolare di una serie di sedi nel territorio regionale in cui subentrare è evidente che il tema della conoscenza del governo, quindi delle consistenze documentarie, degli archivi, del patrimonio archivistico delle province che l'avevano preceduto, dei centri che l'avevano preceduto, è diventato anche una modalità di riorganizzazione o razionalizzazione degli spazi. Quindi da un lato c'è l'importanza informativa, amministrativa delle carte e dall'altro è che nel mondo analogico le carte hanno una loro consistenza volumetrica e quindi in qualche modo affrontare il tema delle consistenze e delle conoscenze, quindi dei propri patrimoni archivisti significa anche aprire lo spazio ad eventuali razionalizzazioni logistiche. Un altro aspetto interessante che verrà fuori spero dalle presentazioni che seguiranno è quello del rapporto analogico digitale, nel senso che alla fine il patrimonio informativo è unico e quindi l'approccio al proprio patrimonio informativo è, diciamo, elemento cruciale dell'andamento dell'azione di qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal supporto. Certo, il supporto analogico detta determinate priorità, quello digitale ne detta altre, ma entrambe diciamo convergono nell'interpellare l'ente produttore o l'ente che subentra in un'azione il più possibile razionale e il più possibile fondata sui principi archivisticamente sostenibili, in buona sostanza. Finisco, ci sono anche altri elementi che verranno fuori, secondo me assolutamente, per esempio quello dell'integrazione, cioè il fatto che affrontare una razionalizzazione della gestione documentale significa affrontare una razionalizzazione organizzativa to cure, anche questo lo diciamo spesso ma non di rado le organizzazioni si dimenticano. La gestione documentale non è un aspetto, non è uno tra i tanti elementi, non è un tassello del mosaico, no? Affrontare coerentemente con i principi attivistici la gestione documentale vuol dire mettere in discussione radicalmente e integralmente l'assetto organizzativo, le competenze, i processi e la gestione dell'informazione, quindi vuol dire rendere moderna e performante un'organizzazione. L'ultimo aspetto che sottolineo è appunto quello del metodo, nel senso che l'agenzia lavoro della regione Emilia Romagna non ci ha presentato a noi soprintendenza appunto un progetto, ma abbiamo lavorato fin dall'inizio, costantemente hanno cercato la nostra sponda istituzionale per condividere una metodologia che poi, come vedremo, ha dato i suoi frutti. Quindi la soprintendenza non solo come ufficio che autorizza una determinata attività, ma anche come ufficio che a tavolino, insomma, svolge questo ruolo consulenziale. Quindi dopo di me parleranno quindi Alessandro Matti, responsabile degli affari generali dell'agenzia che ci descriverà un pochino questa vicenda storico-istituzionale dell'agenzia del lavoro e appunto le sfide che l'agenzia si è trovata ad affrontare. Poi Allegra Pace e Matteo Sisti della cooperativa della ditta, la ditta che ha svolto il censimento e che quindi ha messo a terra le disposizioni regionali. Infine Giovanni Aprea, responsabile della gestione documentale dell'agenzia, tirerà un pochino le somme e ci farà vedere insomma quali sono state le opportunità che questa attività di censimento e di conoscenza degli archivi del lavoro dell'Emilia-Romagna ha prodotto al termine di questa esperienza. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. passiamo la parola a Alessandro Matti che è già collegato vedo che si è collegato allora che ci parlerà diffusamente dell'agenzia regionale per il lavoro che è chi è e cosa fa. Grazie Alessandro a te la parola io mi sconnetto. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Matti, sono la posizione organizzativa dedicata agli affari generali all'interno dell'agenzia regionale per il lavoro e rispetto all'esecuzione di questo approvvigionamento ho svolto anche il ruolo di DEC, quindi il mio intervento in realtà è di superficie nel senso positivo del termine, cioè che è finalizzato poi a introdurre le presentazioni che seguiranno, cioè quella della dottoressa Allegra Pace, del dottor Matteo Sisti e del dottor Giovanni Aprea. Ma prima di iniziare mi si è consentito spendere una parola per ringraziare il dottor Romanzi non solo per l'introduzione di oggi ma come lui stesso ha detto per il ruolo consulenziale che ci ha fornito lungo questo cammino che ormai dura da un paio di anni e non voglio spoilerare gli esiti, non è ancora finito ma anche ci tengo a ringraziare il dottor Bezzi del polo archivistico regionale della regione mia Romagna che so essere in platea oggi che ci ha aiutato in alcuni snodi cruciali del nostro progetto e soprattutto all'inizio ci ha permesso di meglio perimetrare la parte legata agli archivi digitali che è uno dei profili che più caratterizza questo lavoro. Quindi un grazie a entrambi. Passando agli slide di cosa parliamo oggi nel mio intervento, una veloce panoramica sulle caratteristiche organizzative dell'agenzia che è finalizzata a meglio comprendere le attività legate al censimento archivistico analogico e digitale che abbiamo compiuto, a cui seguirà un tentativo di inquadrare molto rapidamente le competenze in materia di lavoro, in chiave diacronica, quali erano gli obiettivi iniziali del censimento archivistico, quali sono stati gli strumenti iniziali per avviare il censimento archivistico e una ricostruzione a posteriori della timeline di progetto. Seguendo il sommario quindi abbiamo che sulla base della già citata legge del Rio numero 56 2014, l'anno successivo la nostra regione, l'Emilia Romagna, costituisce con legge regionale 13 2015 l'agenzia regionale per il lavoro. L'agenzia si dota immediatamente di un proprio statuto, di un proprio regolamento di organizzazione e di proprie linee di guida di organizzazione, questi tre atti a valenza fondativa permettono di fare cosa? Di fare quello che succede in quasi tutte le pubbliche amministrazioni, cioè di dotarsi di una macro struttura e una micro struttura. Quindi ad oggi l'agenzia si compone a livello di macro struttura, di 5 servizi territoriali che attuano le funzioni delle precedenti 9 province in materia di collocamento, politiche attive e mobilità collettive. Quindi vedremo meglio dopo nell'organigramma competenze di supporto, integrazione, gestione e coordinamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato. Accompagnate da 4 servizi di staff sulle funzioni generiche di un'amministrazione generale, quindi affari generali, risorse umane, servizi bilancio e patrimonio e nucleo di supporto giuridico legale. A questo primo livello organizzativo discende un secondo livello organizzativo fatto da unità organizzative complesse, per l'appunto i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato e altre unità organizzative, chiamiamole le uffici per semplificare, rette da titolari di incarichi di particolare responsabilità. Sulle posizioni organizzative le chiamo ancora così, poi vedremo da aprile, dal prossimo mese come sarà necessario chiamarle. Questa è la rappresentazione grafica della macrostruttura, vediamo che è una burocrazia professionale semplice, come direbbe Mintzberg, mi si è semplicemente concesso evidenziare come a livello di line i servizi territoriali, eccezion fatta per il centro 1 che coincide con l'ambito della città metropolitana di Bologna, gli altri raggruppano un ambito territoriale che è pari a due precedenti province, quindi abbiamo il centro 2 che raggruppa l'ambito territoriale di Modena e Reggio Emilia, il nord che raggruppa Ferrara e Ravenna, l'ovest che raggruppa Parma e Piacenza e l'est che raggruppa Forlicesene e Rimini. A livello di microstruttura, e questo è un dato che è utile poi per capire i soggetti produttori che noi abbiamo censito nel nostro lavoro e i soggetti conservatori, ad oggi abbiamo 38 centri per l'impiego che coincidono sostanzialmente uno per ogni distretto sociosanitario, a cui si accompagnano 12 sedi secondarie per presidiare a livello geografico e territoriale quegli ambiti che magari hanno un'ampia dispersione abitativa, sono comunque sedi secondarie collegate sempre a uno dei 38 CP di qui sopra. Inoltre vi sono 9 uffici di collocamento mirato per l'inserimento lavorativo dei disabili. Vediamo già da questi numeri le sedi, il quantitativo collegato alle sedi che ha investito il censimento e l'aspetto anche dimensionale da tenere conto per pianificare questo genere di attività. Ho poi ritenuto utile dare un elemento di contesto legato alla popolazione, cioè al totale del personale afferente ai nostri ranghi giuridici, porto la vostra attenzione sulla data del 30 giugno 2018, dove si passa sostanzialmente da 25 persone a circa 450 persone perché tutto il personale provinciale, circa 430 persone, precedenza gestiti come distaccati all'interno dell'agenzia regionale, vengono formalmente assegnate all'agenzia. Il processo di espansione per chi conosce un po' gli interventi normativi che hanno caratterizzato il mercato del lavoro negli ultimi anni non si è ancora fermato, vediamo che dai 450 dipendenti iniziali arriviamo oggi a circa 806 persone con l'obiettivo a tendere di toccare quota 1000, circa 1000 e nella ripartizione rispetto allo staff line vediamo che la grossa fetta, come giusto che sia, è assegnata sui servizi territoriali e abbiamo un rapporto staff line che oggi si attesta intorno al 10%, tutti i servizi territoriali vedono assegnati in maniera accumulata al 90% del personale, rimangono assegnati sui servizi di staff circa un 10% del personale. Questo è il punto del sommario dedicato alla struttura organizzativa. Ho provato poi a fare un altro tipo di intervento legato ai principali interventi normativi che hanno caratterizzato la struttura organizzativa del mercato del lavoro, ripeto, interventi normativi che hanno caratterizzato la struttura organizzativa del mercato del lavoro, non le politiche del mercato del lavoro e neanche le politiche attive o le politiche passive. Quindi in questa slide diamo conto, volevo provare a sintetizzare a colpo d'occhio come esistano da oltre 100 anni in Italia strutture che si sono occupate di intermediazione lavoro, di collocamento, queste strutture da oltre 100 anni ai fini del censimento producono documentazione, queste strutture hanno visto ruoli e livelli avvicendarsi rispetto alla pubblica amministrazione. Infatti se vedete il livello di competenza in materia si evidenzia 20 anni addirittura prima del periodo fascista che sono di ambito comunale, seguono 60 anni di competenza statale, intorno al 97-98 si passano a competenza provinciale e con le modifiche introdotte dalla del Rio, poi recepite all'interno di alta normativa dedicata, il decreto legislativo 150 2015 si inserisce nell'alveo del Jobs Act, tenete presente che il Jobs Act sono 7 decreti legislativi e due leggi, quindi qui io ho messo solo quella parte di Jobs Act che impatta sulla struttura organizzativa, deputata all'erogazione dei servizi in materia di mercato del lavoro. In particolare ci tengo a sottolineare, partirei da questo puntino che vedete poco prima del 48, ho provato a evidenziare la carta costituzionale, carta costituzionale che segna un po' i due atti normativi successivi che sono il DL 381 48 e in particolare la legge 264 49, passata alla storia come legge Fanfani, che dovendo essere riassunte con uno slogan sanciscono che il lavoro non è una merce, di conseguenza a livello organizzativo cosa stabiliscono? Stabiliscono il monopolio pubblico del collocamento per l'intermediazione del lavoro, stabiliscono il ruolo di competenza esclusiva dello Stato nell'agire a queste funzioni pubbliche, sanciscono un modello vincolistico per la parte offertista aziende e per la parte della domanda lavoratori molto vincolato. Quello che preme a noi evidenziare è l'impatto sui soggetti produttori, infatti nascono su spinta di convenzioni internazionali oil, la numero 88 del 48 che sanciva che ogni Stato dovesse organizzare un sistema pubblico di collocamento e la convenzione oil del numero 96 del 49 che sancisce che ogni Stato dovesse decidere se mantenere o sopprimere gli uffici privati di collocamento, sanciscono la nascita degli uffici per il lavoro e la massima occupazione. Queste strutture organizzative perdurano per oltre 30 anni fino a arrivare alla legge 56-87 dove gli ulmo vengono sostituiti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura come strutture territoriali su base geografica provinciale, quindi una base geografica che resta viva fino ad oggi pur cambiando e sanciscono inoltre la nascita di commissioni circoscrizionali per l'impiego. Si arriva, come diceva anche il dottor Romanzi prima, sempre nell'ambito della Bassanini, la legge 59-97, a una nuova modifica del mercato del lavoro attuata con il decreto legislativo 469-97 e recepita con legge regionale 25-98. Cosa succede? La leggerei in questa maniera, queste riforme anticipano la riforma costituzionale dell'articolo 117 del 2001 che in previgenza non vedeva una competenza regionale nel mercato del lavoro. Con queste norme associata alla riforma costituzionale del 2001 invece c'è un passaggio detto di competenze dal centro alla periferia su tre fronti, il primo è quello del collocamento, il secondo è quello delle politiche attive e il terzo è quello delle mobilità collettive. Si perdure in questo sistema che invade le province di competenze per circa 20 anni, si arriva alla legge del Rio, ovvero la legge 56 del 2014, con un'operazione, se vogliamo speculare, fatta in senso opposto, nel senso che il combinato legge e riforma costituzionale si tenta con legge del Rio 56 del 2014 associata al referendum fallito del dicembre del 2016, in cui si prevedeva un neocentralismo, un ritorno verso lo Stato di questi compiti che erano stati attribuiti e legittimati in precedenza. Ad oggi viviamo quindi in un sistema dove il mercato del lavoro vede la materia in parte come materia concorrente ex articolo 117 Costituzione e in parte come materia residuale, con un quadro legislativo che è impergnato intorno al decreto legislativo 150 2015 di stampo neocentralista. Potrei dilongarmi ulteriormente su questa slide, ma per esigenze di sintesi vado avanti, credo che l'obiettivo di far capire il riverbero che tutti questi passaggi non ancora finiti hanno sulla documentazione che abbiamo censito e di cui vi sarà dato conto negli interventi successivi. Passiamo al successivo punto che sono gli obiettivi del censimento effettuato, in parte già detti, cioè compiere una fotografia della documentazione analogica sedimentatasi dentro i nostri uffici, elencare gli applicativi attivi e non più attivi di carattere ministeriale, provinciale o regionale che contenevano o contengono documentazione nativa digitale in materia di politica per il lavoro, quantificarne il contenuto e il collegamento con le serie analogiche. Infine, terzo obiettivo del censimento, isolare le serie che vedevano come soggetto il produttore qualcuno diverso da noi, ma che erano necessarie alla gestione dei processi correnti dell'agenzia regionale per il lavoro. Gli strumenti che abbiamo usato e che abbiamo trovato prete a porte per iniziare l'attività sono stati ovviamente una revisione del nostro titolare di classificazione, la nostra mappatura dei processi che ci è servita per omogenizzare il lessico e la terminologia, perché spesso le nove province, ed è un elemento non da poco per la nostra attività, chiamavano in maniera diversa gli stessi procedimenti amministrativi, li facevano nella stessa maniera ma erano etichettati in maniera diversa, quindi banalmente sulle coste, sulla costa dei faldoni trovavamo etichette diverse e vi sarà meglio spiegato dopo. Lavori analoghi di censimento erano stati fatti nella provincia di Modena, quindi ci siamo a base del lavoro svolto tra il 2000 e il 2005 nella provincia di Modena e inoltre i massimari provinciali. Rispetto ai massimari provinciali, anche qui c'era un po' di eterogeneità, un primo gruppo di province aveva in toto ereditato i lavori di un gruppo di lavoro regionale per gli archivi delle province, in particolare Riesa, Rimini, Ravenna, Forlicesena e la città metropolitana di Bologna, recependo quindi in toto la sostanziale omogeneità dichiarata nella gestione documentale analogica. Altre province non avevano recepito gli esiti del gruppo di lavoro e avevano mantenuto una propria autonomia nella gestione della documentazione con i riverberi in ambito di censimento che potete immaginare. Infine, Piacenza aveva mantenuto il vecchio massimario ministeriale, riaggiornandolo però all'interno di un proprio piano di conservazione. Ho provato a evidenziare le piccole diversità che alle volte tornano. Porto la vostra attenzione sulla prima riga, i cosiddetti avviamenti numerici ex articolo 16 legge 5687 per l'inserimento del personale per il quale è previsto il solo titolo della scuola dell'obbligo all'interno delle pubbliche amministrazioni. Sono cosiddette aste per inserire colleghi di categoria B all'interno delle pubbliche amministrazioni a cui apparteniamo. Vediamo già da questa riga come alcune province avessero mantenuto questa documentazione per 10 anni, altre meno, altre l'avessero addirittura mantenuta dandogli una caratterizzazione di documento vitale per l'ente. Ci sono maggiori informazioni su questo ambito perché interessano all'interno del piano di conservazione dell'agenzia di cui ci siamo dotati l'anno scorso. Ultimi due minuti per, come avevo pronunciato, sintetizzare i passaggi cruciali del censimento. Vedete che il primo punto è la validazione della soprintendenza del capitolato tecnico ancora prima di fare la determina contrarre. Abbiamo considerato da subito vitale, come diceva il dottor Romanzi prima, attivare la soprintendenza con una valenza di tipo consulenziale. Credo che questo aspetto abbia permesso anche di raggiungere questi esiti che vedrete nelle successive slide. Successivamente c'è stata come punto carne nella determina contrarre, a cui seguito tre mesi dopo la stipula del contratto e un immediato avvio di esecuzione. Tra l'avvio dell'esecuzione e la fase 1 del censimento dove sostanzialmente abbiamo affrontato prima la Romagna e poi l'Emilia, cosa c'è stata? C'è stata la validazione dei campi della scheda di censimento analogico e la validazione dei campi di scheda di censimento digitale. Sei mesi per girare la regione, successivamente, cioè il 2022, un primo periodo dedicato al post raccolta, quindi analisi dei dati e comunicazione degli esiti alla soprintendenza e a partire da maggio comunicazioni formali inviate alle province della regione Emilia Romagna e alla città metropolitana di Bologna per fare una proposta finalizzata a un passaggio formale di titolarità. Grazie per l'attenzione, vi lascio i miei contatti per chi fosse interessato ad approfondire. Grazie a Dottor Matti per questa spiegazione in dettaglio, poi vi ricordo che alla fine della sessione comunque faremo appunto un rincontro con i nostri relatori per approfondire i temi. Adesso do subito la parola alle grapaci e matteosisti di Ebla, della società cooperativa Ebla, li invito a connettersi prima di dargli proprio la parola. Ho visto che molti di voi hanno risolto il problema di visualizzazione delle slide, ci sono stati dei problemi tecnici, spero che sia andato tutto a posto, mi dispiace molto, comunque vi ricordo che la registrazione dell'evento sarà disponibile nel pomeriggio. Allegra e Matteo, prego. Buongiorno a tutti, ben trovati. Inizio ovviamente con dei sentiti, ringraziamenti anche per questa occasione di presentare un lavoro che è stato secondo noi altamente significativo e ha aggiunto davvero qualcosa alla nostra esperienza professionale, come mi auguro che io e Matteo riusciremo un po' ad illustrarvi. Devo fare un ringraziamento particolare ad Agenzia e Alessandro Matti, soprattutto per la grande capacità di coordinare tutti gli attori e la grandissima proprio disponibilità e voglia di lavorare insieme per dei risultati che ci sembrano non banali. Faccio anche un ringraziamento a tutta la squadra Ebla che noi oggi rappresentiamo, composta oltre che da me, da Matteo, da Angelica Barberini, da Margherita Becci, da Fabrizio Monti, da Matteo Marzocchi, da Marco Tabacco, da Pamela Galeazzi e da Sara Spallanzani perché come credo vi sia già chiaro è stato un lavoro anche di grande consistenza e svolto in pochissimo tempo, come ci ha ricordato Alessandro praticamente il censimento si è svolto in sei mesi. Qualche premessa prima di entrare nel merito nell'illustrarvi le schede adottate, qualche informazione di contesto, avete visto che appunto questo censimento è nato dall'esigenza di Agenzia nel momento in cui è subentrata nelle funzioni precedentemente demandate alle province di conoscere in maniera approfondite il patrimonio documentale. A questo voglio aggiungere il fatto che c'è stato durante il corso dell'attività e credo che fosse anche in premessa un aggiornamento di quelli che erano gli strumenti archivistico-gestionali di Agenzia. Alessandro ha parlato per esempio dei piani di conservazione ed è stato molto interessante proprio il feedback che si è creato. Cioè nel momento in cui rilevavamo la documentazione siamo riusciti in qualche modo a supportare Agenzia che chiaramente aveva già elaborato un proprio modello però anche a metterlo a punto, anche a calarlo in un contesto concreto. Vi do qualche riferimento perché quello che è stato comunque alla base della nostra attività anche azienda esterna è stato innanzitutto il capitolato di gara che appunto era ben predisposto, ben elaborato proprio perché appunto ci avevano lavorato già più attori. La nostra offerta tecnica che comunque siamo stati chiamati a formulare e di fatto insomma non a caso poi ci è stato affidato l'incarico perché comunque era rispondente a quanto era stato gli obiettivi prefissati. Questo confronto con i referenti dell'Agenzia che ha supportato completamente tutta l'attività dall'inizio alla fine fino al momento proprio della redazione di questa consistente relazione finale e hanno inciso in maniera assolutamente positiva i contributi qualificati di Parer, del dottor Bezzi poi in particolare della sovrintendenza archivistica e bibliografica delle media romagna. Il lavoro è stato organizzato secondo degli step proprio per l'aggiungimento degli obiettivi quindi si è partiti da redigere una scheda di censimento, si è effettuata una ricognizione di tutti i fondi e della documentazione di interesse per l'Agenzia ubicati presso le sedi che ci erano state indicate sostanzialmente tutte e nei sistemi informatici il loro uso. Si sono rilevati luoghi e sistemi di conservazione e le consistenze valutando la produzione documentale analogica e digitale da trasferire all'Agenzia. L'obiettivo era individuare quale documentazione era effettivamente di interesse per il proseguimento dell'attività. Si è proceduto col consegnare all'Agenzia per ogni sede una scheda di censimento che avesse le caratteristiche che erano state evidenziate e si è prodotta una relazione di sintesi finale in cui si è raccolto tutto quanto era stato prodotto. Guardiamo ora quali sono state le attività preliminari a questa attività di censimento, quindi analisi e messa a punto del modello di questionario, la costituzione, il coordinamento del board di progetto di cui hanno fatto parte appunto Agenzia, EBLA, la sovrintendenza e il PARER, la definizione di un'agenda di dettaglio per le attività di censimento perché le sedi erano numerose, gli attori erano numerosi, quindi qui c'è stato un enorme lavoro curato con grandissima attenzione da parte di Agenzia in modo di consentirci di operare celermente su tutto il territorio. Si è recuperata tutta la documentazione utile allo svolgimento dell'attività ricognitiva, quindi piani di conservazione, titolari, numerosi elenchi già presenti, considerate per esempio il censimento ha interessato le sedi delle province, quindi c'era anche molto di già fatto, comunque forse non più attuale ma sicuramente da considerare nella nostra attività. Abbiamo poi, EBLA, all'interno della propria proposta, aveva inserito la costituzione di una piattaforma web basata su FileMaker Pro, quindi si è proceduta la personalizzazione della piattaforma ad accesso riservato ovviamente ai soggetti coinvolti nel board, che è stata di supporto all'attività di censimento ma è stata anche fondamentale per la restituzione delle informazioni in maniera aggregata ma anche poi per consentire tutte le interrogazioni alla banca dati. Sempre come attività preliminare c'è stata poi la verifica e la rielaborazione del tracciato dati così come era stato inserito nella nostra offerta tecnica. Era finalizzato ovviamente l'effettiva raccolta e successiva elaborazione. Ora inviterei Matteo a darci qualche specifica sulle relazioni che è un po' anche il cuore del nostro intervento. Buongiorno a tutti anche da parte mia ovviamente, mi unisco i ringraziamenti che ha già fatto Allegra e abbiamo deciso nella nostra presentazione, vediamo velocemente questa slide, proprio di condividere quella che è stata un po' la rappresentazione del contesto archivistico in cui siamo stati chiamati a operare, contesto archivistico appunto che abbiamo analizzato insieme a tutti i soggetti del board, quindi il pare, la superintendenza e l'agenzia. Appunto l'ultima attività preliminare prima del censimento è stata proprio finalizzata ad evidenziare tutte quelle relazioni che avremmo potuto ritrovare durante l'attività proprio di censimento e ricognizione, sia della documentazione analogica sia della documentazione digitale. Quello che possiamo dire è che il contesto di partenza, lo dice del resto il titolo del webinar di oggi, è quello di N archivi ibridi che avremmo dovuto appunto censire, archivi ibridi che sono a loro volta strutturati in serie che possono essere state nel tempo conservate su porti diversi, come si diceva all'inizio, ma anche abbiamo previsto come possibilità che poi concretamente si è verificata, lo vedremo brevemente in un caso d'uso alla fine della nostra presentazione, caso d'uso appunto che ci racconta che anche le stesse serie di documenti informatici che noi abbiamo riscontrato potevano essere a loro volta conservate anche su sistemi informativi diversi. Quindi diciamo la parte di analisi preliminare proprio all'avvio del censimento ci ha permesso sostanzialmente di definire il contesto in cui avremmo operato e appunto di impostare anche la personalizzazione di FileMaker, quindi la piattaforma web che abbiamo utilizzato non soltanto per la gestione del progetto, quindi anche come repository di tutti i documenti che ci siamo scambiati, ma anche come applicativo che poi l'agenzia avrebbe utilizzato per ricercare sostanzialmente le aggregazioni documentali, quindi le serie del nuovo archivio che avrebbe acquisito sostanzialmente permettendo un riordinamento virtuale dello stesso. Direi quindi che possiamo andare avanti e entrare proprio nel merito dell'attività del censimento, vi do la parola ad Allegra. Sì, quindi in primo luogo per poter effettuare il nostro censimento, sulla base degli standard escrittivi archivistici, in particolar modo ISAR, si è provveduta ad identificare in maniera unifoca il soggetto produttore. Vi dico che ne abbiamo identificati, come vedremo poi, 152 diversi, se avete visto la partizione cronologica, la successione che c'è stata negli anni alle spalle dell'archivio di agenzia, avete capito che c'era una situazione di particolare complessità. Quindi soggetto produttore di ciascun fondo definendo gli elementi minimi necessari per creare un'autority record. Questo authority file è stato il presupposto per l'edificazione dell'intero sistema dati, nell'ottica appunto della creazione di un unico archivio per agenzia, un unico archivio che poi in parte, in buona parte è un archivio virtuale, perché poi non tutta, ho credo solo in minima parte, verrà movimentata fisicamente la documentazione, però era appunto la creazione di un archivio per questo nuovo ente e che doveva chiaramente questo sistema archivio garantire la qualità di ogni futura elaborazione e gestione. Quindi definiti i tracciati e l'architettura relazionale che abbiamo visto in questa immagine che Matteo ci ha proposto, in cui dovevano in questa architettura relazionale inserirsi le informazioni, si è effettuato il vero e proprio censimento e si sono quindi raccolti i dati organizzati in cinque diverse tipologie di scheda. Quindi la scheda della sede fisica di conservazione, la scheda del complesso archivistico che è ovviamente forse quella più complessa, la scheda soggetto produttore, la scheda soggetto conservatore e una scheda specifica per i sistemi informativi. Come vedrete noi l'obiettivo era costituire un archivio unico e direi che ci siamo anche riusciti. È chiaro che però i sistemi informativi avevano delle loro peculiarità per cui in parte abbiamo dovuto con la creazione di alcuni campi specifici acquisirli attraverso una ulteriore scheda. Quindi la scheda di accensimento del complesso archivistico la possiamo andare a vedere, vi la proponiamo, ecco, chiedo a Matteo, scusa Matteo di illustrare. Sì, sì, ci passiamo la palla. No, molto velocemente così cerchiamo di stare nei tempi e dirvi un po' tutto, anche se ovviamente potremmo stare qua molto tempo. I campi che abbiamo previsto per la descrizione delle diverse partizioni che abbiamo individuato, in alcuni casi sono campi in comune, sia per la scheda delle partizioni analogiche che per quella delle partizioni informatiche, vero però è anche che soprattutto con riferimento alla parte informatica abbiamo previsto di recuperare delle informazioni che fossero anche funzionali ad agenzia per gli scopi che erano stati comunque dichiarati nel capitolato tecnico, per cui vedete nella colonna di destra, ad esempio, informazioni sul formato, la presenza o meno di metadati, se i documenti informatici erano già stati trasferiti in un sistema di conservazione, sono informazioni che sono specificatamente state previste proprio per gli scopi di agenzia. Mentre i campi che vedete in grassetto, molto velocemente, sono alcuni degli elementi comuni ai due contesti analogico e digitale, ma sono quei campi che ci hanno permesso poi di mettere relazione. Da una parte le serie digitali, chiamiamole così, e dall'altra le serie analogiche, ma parliamo appunto delle stesse serie. Ecco, questi sono i campi che ci hanno permesso di creare la relazione in particolar modo e la possibilità di ricercare e in qualche modo fruire dell'archivio pubblico. Possiamo andare avanti? Allora, tra gli step che abbiamo visto di supporto al censimento, di articolazione del censimento, abbiamo visto poi che c'era questa attività di redazione di una relazione finale. Anche questa attività è stata fatta a stretto contatto con l'agenzia, perché credo che vi sia ormai chiaro da quello che possiamo avervi detto, che comunque le possibilità di estrarre dati dal lavoro che avevamo fatto, che era un lavoro di grande articolazione, erano molteplici, con tantissime possibili sfaccettature. Quindi è stato importante selezionare i dati di interesse, perché appunto l'obiettivo di agenzia era certamente un obiettivo di conoscenza, ma anche un obiettivo di carattere gestionale. E quindi anche nella creazione di questa relazione l'abbiamo mirata con grande attenzione proprio a dare quelle che erano le richieste del nostro convincente, fatto salvo che comunque gli è rimasta a disposizione la banca dati per ogni possibile, anche elaborazione futura. Ci sono censite 57 diverse sedi fisiche di conservazione, in cui ci sono rilevati i dati che vedete qui elencati, di cui possiamo intanto dirci che di particolare rilievo dal punto di vista gestionale è stata la misurazione dei metri lineari di scaffali disponibili, proprio in un'ottica di gestione pratica del patrimonio. Abbiamo anche, come detto, censito, oltre che le sedi fisiche, quelle che possiamo definire delle sedi virtuali, proprio nella volontà di produrre un archivio unico tra archivio analogico e archivio digitale. Quindi abbiamo fatto una descrizione anche della sede virtuale. Sì, sulla sede virtuale proprio, come vedete, i campi elencati sono quelli che abbiamo ovviamente memorizzato, una nota molto veloce sul campo storia, perché effettivamente credo che un valore anche di questo progetto sia stato quello di indagare quella che è stata la storia, l'utilizzo anche dei primi sistemi informativi, anche e soprattutto in ambito provinciale. Quindi lasciamo comunque anche ad agenzia, se vogliamo, qualche elemento utile proprio per la storia archivistica del proprio archivio. E verbali, anche lasciamo delle interviste che abbiamo fatto anche a personale che stava andando in pensione, quindi che abbiamo in tempo intercettato per avere queste informazioni che si sono rivelate molto preziosi. Grazie, vado avanti Matteo. Sì, sì. Allora, in questa descrizione complessiva del patrimonio abbiamo rilevato e descritto 7070 metri lineari totali. Per ogni complesso si è indicata la sede, la tipologia di unità di condizionamento, il numero dei pezzi, lo sviluppo in metri lineari e si è indicato anche se necessaria l'attività corrente, quindi funzionale all'attuale attività di agenzia non necessaria o se destinabile allo scarto. Per ogni sistema informativo si sono indicati il numero dei documenti e lo spazio occupato e anche qui è stata data questa indicazione relativa al necessario, non necessario o scarto. Qui vorrei mettere un attimo un accento perché come probabilmente sapete non è certamente una prassi comune, anzi forse la possiamo considerare una prassi mai praticata, di fare una proposta di scarto all'interno di un sistema informativo. Con questo sistema di identificazione delle serie e raggruppamenti presenti che abbiamo fatto diciamo normalizzando tutto quello che anche Alessandro ci diceva, parliamo di documentazione che ha provenienze assolutamente eterogenee, create imposti che non erano assolutamente aggregati sotto un ente unico, abbiamo avuto anche, era stata a volte per un periodo anche di gestione comunale, quindi una grandissima frammentazione, noi abbiamo identificato 152 possibili serie e serie raggruppamenti che sono stati applicati tanto in ambito analogico che in ambito informatico. Questa attività non banale direi abbastanza complessa sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico ci ha consentito di applicare gli strumenti all'intero archivio virtuale di agenzia, quindi di poter dire questa serie è scartabile, chiaramente non facendo una valutazione sullo scarto, indicazioni, chiaramente non uno scarto vero e proprio, non sul singolo pezzo ma identificando tipologie scartabili. I complessi archivistici, per ogni serie si è compilata una scheda complesso archivistico che riporta come campi obbligatori per ogni stringa descrittiva coincidente con una o più unità archivistiche aventi lo stesso titolo, della stessa tipologia documentaria e poste sullo stesso palco, le voci descrittive gestionali qui sotto riportate. Quindi vi è chiaro da quello che praticamente si è proceduto con tutti questi campi in innumerevoli casi per singole unità, solo in caso in cui le stesse unità erano presenti sullo stesso palco che abbiamo considerato come dire una unità da gestire, si è proceduto alla descrizione comune, quindi diciamo un massimo di 5 e 6 buste, se no ognuna è stata descritta con questo livello di dettaglio. abbiamo lavorato sull'identificazione dei soggetti produttori, ne sono stati isolati 257 che sono stati gestiti all'interno del nostro sistema informativo con delle tendine, con dei campi obbligatori e non è stato anche qui un discorso semplicissimo dare una denominazione unica, identificare proprio per la loro articolazione e abbiamo, ci siamo appoggiati come credo a molti di voi non sarà sfuggito per le terminologie, per l'uso di una ontologia eccetera al mondo si usa, cioè al mondo del sistema informativo unificato e delle sovrintendenze archivistiche perché al di là di qualunque condivisione avevamo comunque bisogno di un sistema conosciuto e codificato in cui anche i nostri archivisti si muovessero bene e devo dire che è stato assolutamente funzionale all'attività che abbiamo svolto. Oltre ai soggetti produttori sono stati identificati dieci diversi soggetti produttori, conservatori di cui di nuovo abbiamo dato tutta una serie di informazioni di contesto. Passo ora la parola a Matteo per darci qualche informazione in più su quello che sono i documenti informatici. Sì, allora vado, andiamo a chiudere ovviamente il nostro tempo a disposizione è praticamente terminato però ci teniamo a darvi un riscontro un po' più pratico. Allora si è parlato appunto del lavoro di normalizzazione che è stato fatto proprio per poter avvicinare questi due mondi, quindi il digitale e l'analogico trovando appunto le sere come punto di contatto. È evidente che ci sono dei limiti ovvi, strutturali, insomma, nel tipo di lavoro che abbiamo fatto, anche perché lo ricordava Alessandro Matti nel suo intervento, insomma, tanti produttori significa anche tanti criteri diversi con riferimento alle modalità di formazione, di gestione documentale. Si parlava di tempistiche di scarto diversi, di nomi diversi di procedimenti, insomma, un contesto eterogeneo che abbiamo cercato comunque in qualche modo di tenere insieme. Andiamo quindi alla slide successiva. Ecco, questo è un piccolo caso d'uso per mostrare un po' i risultati che è stato possibile a volte ottenere. Prendiamo la serie delle comunicazioni obbligatorie. Il riscontro del censimento cartaceo ci ha portato a individuare nel contesto della provincia di Modena nuove unità di conservazione, cioè buste di documenti cartacei, prodotti tra il 1980 e il 2005 dal centro per l'impiego di Modena. Nel momento in cui, invece, il censimento è passato, diciamo, con riferimento alla documentazione digitale, se voi vedete, abbiamo in qualche modo ricostruito la serie nella sua continuità, perché abbiamo documenti informatici originali in formato TXT per gli anni 2006-2008, ovviamente sempre nel contesto di Modena ne abbiamo censiti fino al 275 mila e questo, diciamo, negli anni in cui è stata sperimentata appunto la comunicazione obbligatoria digitale, chiamiamola così, prima di quella poi normata dalla legge 296 del 2006 che ha fatto sì appunto che venisse introdotto il formato XML delle comunicazioni obbligatorie. Anche in questo caso abbiamo censito documenti tra il 2007 e il 2020 nel contesto di Modena e siamo arrivati, insomma, alle cifre che vedete, quindi più di 6 milioni di file. Tra l'altro il censimento, diciamo, è andato anche un po' meglio di come pensavamo all'inizio, come risposta, come raccolta di informazioni. siamo riusciti anche a quantificare in qualche maniera, ad esempio, le registrazioni che venivano fatte con riferimento alle diverse serie nel SILER, quindi nel sistema attualmente utilizzato proprio per la gestione anche delle informazioni e dei dati relativi, diciamo, ai documenti gestiti in materia di lavoro. Andrei alla slide successiva, due screenshot, insomma, per salutarci nel FileMaker, nel sistema FileMaker che abbiamo messo a disposizione dell'Agenzia, avrete le slide quindi poi potrete ingrandirle e vedere sicuramente meglio. È possibile ovviamente fare una ricerca trasversale tra il patrimonio analogico e quello digitale, per cui, ad esempio, selezionando tre metadati come la provincia di Modena, il livello di descrizione serie e scegliendo dal menu a tendina che vedete sulla destra proprio il nome della serie normalizzata, passiamo alla slide successiva, voi vedete, ad esempio, come possibili risultati delle righe in cui viene dato conto sostanzialmente del luogo di conservazione, sia essa una sede fisica o un sistema informativo, proprio delle comunicazioni obbligatorie. Questi dati che vedete nelle colonne successive in rettangoli arancioni sono ulteriori metadati che io posso scegliere dinamicamente di visualizzare per quelli che sono i risultati che ottengo dalla mia ricerca. Lascio ad Allegra un saluto finale e vi ringrazio. Io vi ringrazio molto dell'attenzione, siamo ovviamente, adesso ancora abbiamo anche qualche parte, seguiremo con interesse l'intervento di Giovanni che ci darà un po' il filo dell'attività che è stata svolta, le conclusioni, l'utilizzo, ma rimaniamo chiaramente a disposizione per chiunque di voi possa avere, anche insomma oltre questa conversazione, interesse a sapere qualcosa di più di questo lavoro. ringrazio molto, lascio la parola alla dottoressa Cornero. Grazie Allegra, grazie Matteo. Mi riallaccio intanto al vostro invito. Potete inserire eventuali domande su tutti gli interventi dei relatori, anche ovviamente su questo e sull'esperienza del censimento nella chat, poi alla fine avremo un momento di incontro di nuovo con tutti i relatori per rispondere e grazie ai relatori appunto che ci hanno dato veramente un'idea, non solo del... a parte ci hanno dato un'idea molto chiara e dettagliata con un'ottima spiegazione di questo censimento che dà anche l'idea dell'importanza e della complessità di un'attività del genere. e adesso appunto vedo che Giovanni già si è collegato, lascio la parola a lui per vedere appunto bilanci e prospettive di questo del censimento archivistico maggiormente in dettaglio. Grazie Giovanni, a più tardi. Grazie Alessandra. Buongiorno a tutti e allora per chi non mi conosce io sono Giovanni Aprea, sono il responsabile dell'Unità Organizzativa e Gestione Documentale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e sono anche insomma il funzionario archivista, non ho detto alchimista perché seppur non abbiamo trasformato gli archivi dei centri per l'impiego e gli uffici di collocamento minati in oro, io ritengo che gli esiti di questo censimento abbiano restituito comunque un contributo molto prezioso e pertanto ci tenevamo proprio a condividerlo con tutta la comunità e pertanto insomma ringrazio anche Formez, il Pare e tutti gli attori che ci hanno insomma aiutato nel corso di quest'anno che è stato veramente proficuo per tutta una serie di attività e lavori che abbiamo condotto nel corso del 2021 e 2022 che ci hanno portato appunto a illustrarvi questi risultati. Quindi bando alle ciance penso che a quest'ora avrete fame di conoscere il bilancio di questa esperienza quindi andiamo agli obiettivi insomma di questo incontro. Quindi cercherò insomma di darvi un'analisi commentata dei dati emersi dal censimento archivistico che in parte comunque ricalcano anche quelli che avete appena ascoltato da parte della dottoressa Allegra Pace e del dottor Matteo Sisti. Poi ovviamente cercheremo anche di condividere un criterio metodologico per come ci siamo cervellati per capire come gestire tutte queste fasi di transizione da un ente a un altro e quindi insomma la definizione dell'ipotesi di destinazione della documentazione. Poi siamo andati anche nella parte finale cercheremo anche di capire gli iter della presa in carico della titolarità della documentazione ed infine alcuni passaggi relativi insomma alla definizione di quelle che sono le modalità di corretta tenuta degli archivi attraverso l'adozione di un piano di conservazione e la programmazione ovviamente delle conseguenti attività di scarto archivistico. Quindi partiamo appunto dagli esiti della ricognizione lato cartaceo quindi dato documentazione analogica. Qui come chi mi ha preceduto abbiamo individuato 57 sedi che ovviamente si suddividono fra i centri per l'impiego, gli uffici di collocamento migliato, gli uffici di staff dell'agenzia, gli archivi di deposito delle province e quindi insomma abbiamo avuto un quadro molto ampio. E forse Alessandro Matti ha definito nei suoi obiettivi di censimento il termine fotografia. Cioè noi in questo lavoro di sei mesi, grazie anche insomma agli archivisti di Ebra che sono stati molto competenti nel loro lavoro di descrizione e schedatura, abbiamo avuto insomma la restituzione di potenziali serie barre raggruppamenti in quanto abbiamo dovuto anche normalizzare tutta una prassi organizzativa e anche ontologica nel senso di denominazione proprio di quel procedimento amministrativo che appunto si diversificava da provincia a provincia, quindi anche qui è stato veramente un grande lavoro insomma di sintesi e uniformazione. Quindi in questa infografica vedete insomma le principali serie che poi sono anche visualizzabili all'interno delle schede del complesso archivistico. Quindi una volta che avremo poi affrontato le attività di scarto archivistico, come è da consueta prassi archivistica è appunto quella del riordino. Quindi anche da un punto di vista conservativo la relazione finale ha emerso un quadro comunque positivo e questo anche non era scontato noi che all'inizio mettevamo in atto insomma questo progetto. Mentre per la parte digitale e anche qui è stato un grande lavoro di risalire da il sistema originario fino ad oggi. Qui sono stati censiti vari sistemi informativi come il net labor che nasceva dal 94 al 99 in epoca ministeriale. Poi ha avuto comunque il suo successore quando ovviamente la funzione lavoro è passata alle province con il sistema informativo pro labor. Poi da pro labor si è passati ai sistemi informativi lavoro dell'Emilia Romagna in nove sealer che poi nel 2021 si sono unificati in un unico sistema informativo lavoro dell'Emilia Romagna che è una galassia come noi in agenzia definiamo una galassia di applicativi che poi fa funzionare. In particolar modo mi riferisco al lavoro per te ma anche gli altri moduli che insomma evidenziano sempre tutti i servizi che noi agenzia eroghiamo al cittadino. Ad esempio tip per te la gestione dei tirocini assister per quanto riguarda tutta la prassi dei soggetti fragili e vulnerabili della legge 14. Quindi anche qui è stato comunque un passaggio molto delicato e in certi versi anche molto interessante come insomma evidenziato Matteo abbiamo visto anche un rispecchio per quanto riguarda la documentazione che veniva prodotta attraverso. attraverso questi sistemi e che eh che ritroviamo poi anche all'interno dei nostri archivi eh fisici e soprattutto è il caso appunto delle comunicazioni obbligatorie della provincia di Modena che eh in quell'esempio appunto abbiamo che quelle eh nove filze in cui di quei determinati anni poi li ritroviamo eh in larga parte poi nelle nostre schede da censimento è un un elemento molto importante e ci tengo soltanto a sottolineare insomma eh perché il SILER è il sistema eh per eccellenza eh del del nostro mh cioè di tutto insomma il nostro lavoro in quanto durante il periodo eh in quanto durante il periodo di competenza provinciale eh era utilizzato come un sistema di registrazione particolare di documenti analogici e informatici e e quindi insomma anche qui diverse province potevano introdurre autonomamente tipologie documentali eh a seconda insomma delle proprie esigenti. quindi non non c'era non non era integrato col sistema di gestione documentale e quindi col protocollo generale quindi alla fine insomma della fiera nel duemila e ventuno c'è stato appunto questa centralizzazione eh in un unico sistema e anche qui abbiamo anche poi condotto in sinergia con i con i nostri colleghi del del servizio integrativo di agenzia un lavoro di integrazione tra tutti i documenti cioè tra abbiamo innanzitutto mappato tutte le tipologie documentali che venivano prodotte da questo sistema e poi integrate all'interno del sistema di gestione documentale quindi del protocollo generale. vado avanti insomma quindi ai dati ehm rilevanti di questo eh di questo eh di questo esito eh della ricognizione e anche qui insomma le sedi individuate da censire erano inizialmente sessanta ne abbiamo censite cinquantasetti in quanto in alcuni casi mh per forza di causa maggiore non non si è potuto intervenire. quindi vedete insomma eh alla colonna sinistra ci sono le consistenze in metri lineari della documentazione conservata presso i centri per l'impiego e collocamenti mirati. mentre sulla sinistra invece si tratta della documentazione conservata presso gli archivi di deposito delle province o della città città metropolitana di Bologna anche se ND sta per non descritta in quanto non il censì non si è potuto eh effettuare il censimento in queste in queste sedi quindi insomma sono sette chilometri e settanta eh metri lineari di documentazione e che successivamente eh vedrete aumentare il eh il numero per quanto il totale del numero per la eh per la prima eh tabella in quanto una delle serie che abbiamo censito una serie insomma che eh conservata eh in parte presso gli archivi di deposito degli enti province è il è il cosiddetto percorso lavoratore un documento eh ancora importante per i nostri procedimenti correnti in quanto il percorso lavoratore riassume eh tutta la eh la carriera insomma eh del lavoratore insomma tutti i lavori tutti i lavori che insomma sono stati effettuati nel corso della vita eh del cittadino quindi insomma in questo in questo caso abbiamo chiesto eh alle province eh la titolarità per questa documentazione e quindi passiamo da cinque chilometri e otto a sei chilometri e due alleggerendo insomma il censito da parte degli archivi delle province in tutto ciò eh anche qui eh la complessità del censimento ha fatto sì che eh molte volte eh non è possibile non è stato possibile censire la documentazione ma sono state comunque eh inviate eh inviate insomma degli elenchi di consistenza della documentazione oppure nel caso nel caso di Modena eh era era stato insomma effettuato un lavoro di guida eh di una guida archivistica un mezzo di corredo comunque importante per la descrizione eh di un fondo archivistico e quindi insomma c'è c'è parso comunque inutile ehm inutile ricensire ciò che è stato censito nel duemila e cinque e quindi un chilometro e due di documentazione è stata lasciata mentre eh la provincia di Rimini ha aggiunto altri trecentottanta metri in quanto il il suo eh conservatore ha eh ci ha inviato appunto un elenco di consistenza della documentazione e vedete insomma che un chilometro e sei è documentazione che non è stata censita che non è stata censita dalla cooperativa Ebla ma comunque è nota in tutto ciò andiamo alla slide madre madre che nel senso qui in assenza di eh best practices a livello nazionale in assenza insomma di eh un quadro legislativo chiaro ci siamo dovuti inventare delle delle eh delle prassi che ehm tendenzialmente eh soddisfacessero sia gli esigenze sia le esigenze archivistiche quindi mh e faccio particolarmente modo insomma a al codice dei beni culturali ma anche a ai criteri logistici e anche mh viene da dire realistici in quanto eh eh sappiamo bene che le province eh non dispongono di eh di risorse eh rilevanti quindi insomma eh abbiamo cercato insomma di ehm tutta la documentazione censita l'abbiamo suddivisa su due assi dove da un lato prendiamo in considerazione quello che che è necessario all'attività corrente quindi che l'agenzia prende in carico dall'altro ciò che non è necessario all'attività corrente e quindi lasciamo alle eh soprattutto alle province e e quindi vediamo che eh il potenziale scartabile quindi uno a corrisponde ovviamente alla documentazione di epoca provinciale sedimentata e conservata nei centri per l'impiego che anche in considerazione del nostro piano di conservazione ha superato comunque dieci anni quindi potenzialmente scartabile non insomma che eh effettivamente io vado al centro per l'impiego ho questo patto di servizio e lo scarto no potenzialmente scartabile quindi insomma anche qui ci siamo insomma tenuti eh in maniera molto cautelativa mentre 744 metri lineari sono il 2A quindi tutta la documentazione di epoca provinciale quindi dal 98 al 2015 che è se diventata e conservata negli archivi di deposito delle province della città metropolitana di Bologna dopodiché eh il potenzialmente eh il potenzialmente non scartabile invece ha preso in considerazione tutta la documentazione diciamo eh semicorrente eh mi permettete di dire ovvero di epoca provinciale o eh agenzia che non ha superato gli ultimi cinque anni e un e ovviamente le serie ministeriali quindi insomma anche lì su su tutta la parte ministeriale dove è conservata all'interno i centri per l'impiego abbiamo fatto la scelta di prendere la titolarità della documentazione questo non vuol dire che non sia poi effettivamente scartabile abbiamo anche insomma casi recenti dove ah siamo riusciti a scartare documentazione di età ministeriale però diciamo che in linea di massima poi si vedrà caso per caso insomma cosa sarà scartabile e cosa no quindi questo insomma è il quadro delle attività poi il numero tre è le serie del percorso lavoratore quello che vi dicevo che comunque è necessaria attività dell'agenzia per un totale di quattro chilometri e quattro di documentazione eh scusate di fretta insomma quindi cerco anche di concludere è un lavoro di 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 quasi due anni riassumerlo in venti minuti non sa non è eh non è da poco però era importante insomma dare dei numeri anche qui soggetti conservatori eh questo ovviamente rileva il totale di ciò che tra censito e non censito detengono quindi qui qui si entra anche ad esempio la la giunta eh in quanto insomma gran parte è stata versata ai loro archivi di documentazioni afferente all'ex servizio lavoro che era nato insomma a nel insomma al nel duemila e quattordici al duemila e duemila e diciotto e poi ovviamente in parallelamente ci siamo mossi a eh redigere un piano di conservazione in quanto ci serviva come il pane per eh poter dar eh dar atto al passaggio di titolarità della documentazione l'analisi insomma di tutte eh le attività di selezione scarto e e un piano di conservazione che come vedete ora non so se leggete bene che ha una forte connotazione eh di carattere archivistico quindi insomma con eh con il riporto del delle classiche ehm eh linee insomma gerarchiche del titolo classe la denominazione della classificazione eh più eh la parte relativa a eh ai fascicoli che sono presente all'interno di queste eh di queste insomma di questa serie che ovviamente è collegata strettamente al processo di riferimento questo ovviamente sono gli avviamenti a selezione eh articolo sedici legge cinquantasenne eh del dell'ottantasette che Alessandro Matti ha ricalcato in prima anche qui abbiamo definito poi i tempi di conservazione del fascicolo anche in base insomma al alla vita del processo e anche insomma le 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 unità organizzative che ne fanno parte. Concludo insomma con il post censimento quindi insomma cosa stiamo facendo adesso eh abbiamo insomma siamo siamo entrati abbiamo comunque comunicato alle province la presa in carico della titolarità della documentazione che eh era insomma all'interno dell'ipotesi di destinazione le otto province poi ci hanno confermato eh la nostra richiesta e e quindi insomma adesso stiamo pianificando tutti gli interventi di scarto sui vari ambiti territoriali quindi qui anche qui tutto un work in progress dove anche qui dovremmo tenere eh tre tre criteri uno geografico ovviamente di dislocazione delle sedi sul perimetro regionale un archivistico insomma capire anche lo stato di ordinamento della documentazione perché sì è stata censita ma adesso dobbiamo andare a vedere insomma caso per caso insomma cosa cosa contiene e poi anche logistico in quanto eh c'è un'imminenza di eh di programmazione di attività di trasloco in quanto i nostri centri per l'impiego eh a breve insomma cambieranno sedie e quindi insomma a questo insomma è il succo del nostro lavoro. Io vi ringrazio per l'attenzione e scusate insomma se ho sforato un po' ehm il il tempo. Grazie. Alessandra non ti si sente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sì, il censimento è ovviamente stato finalizzato non solo alla presa in carico fine a se stessa, ma anche alla successiva attività di scarto, che è un'attività work in progress. C'è da aggiungere questo rispetto a quello che ha già detto Giovanni, cioè che lo scarto, essendo sia un'operazione irreversibile che modifica la fisionomia dell'archivio e che interviene quindi anche sulla testimonianza dell'attività dei vari soggetti produttori che abbiamo visto, oltre a essere un procedimento amministrativo è anche un'operazione tecnica e quindi ne consegue che è davvero padroneggiabile solo se capisci come l'archivio è sedimentato e come si è sedimentato. E di conseguenza questo lavoro è stato assolutamente propedeutico alle successive attività di scarto. Ringrazio Anzi per la domanda. Ecco, io non vedo né domande né sento e vedo la dottoressa Bonnero, ma io mi sento di dire... Giampiero, perdonami, mi sono connessa da un'altra postazione perché spiegabilmente c'erano dei problemi e allora no, grazie, stavi continuando tu come ti avrei chiamato io stessa, avevo chiamato, stavo chiamando tutti quanti sia i relatori sia anche Gabriele Bezzi che ho visto a connettersi poi dopo di te per un saluto finale magari, visto che appunto Gabriele è l'altro partner dell'accordo di cooperazione tra Formex PA e la regione Emilia Romagna, dell'accordo per cui facciamo anche questi molto interessanti, grazie a voi soprattutto, seminari e quindi a seguire dopo di te adesso ti lascio subito la parola, scusate per questo inconveniente. No, no, semplicemente, grazie Alessandra, semplicemente per commentare e dire in pochi secondi quanto è importante dal punto di vista anche quantitativo, cioè l'importanza, la massa critica, ecco, di documentazione e di frammentazione fisica e logica che l'agenzia lavoro ha incontrato in questo progetto. Tenete conto che detta in maniera molto primitiva l'agenzia avrebbe anche potuto dire io subentro, le sedi ci sono, gli archivi ci sono, no? Si trattava semplicemente di mettere a punto e abbiamo visto in passato esperienze di questo tipo, no? Cioè un subentro cambia la targhetta fuori dall'ufficio o fuori dalla sede, questo che era il centro per l'impiego di sotto la provincia diventa un centro invece che risponde alla regione, un ufficio regionale. Voi capite che ci sarebbe potuto essere anche un approccio così, proprio basic e di subentro di titolarità istituzionale fine a se stesso e limitato a questa prassi. E invece naturalmente quello che abbiamo visto oggi che ha un altro valore aggiunto che forse non è emerso, cioè in questi casi a volte capita che l'ente che subentra richieda all'ente produttore la documentazione di cui ha bisogno per continuare l'attività amministrativa, circoscrivendo però questa richiesta soltanto a ciò che realmente serve, cioè agli affari attivi, agli affari in essere, disinteressandosi di tutto quello che c'è prima. Questa operazione invece è stata un'operazione completamente diversa e mi è piaciuto il termine archivio unico perché archivisticamente non è un archivio unico perché ci sono tanti soggetti produttori ma è molto interessante che abbiano usato questa espressione, cioè archivio unico vuol dire veramente puntare al governo di tutto il patrimonio documentario per lavorare meglio. Pensate soltanto al discorso dell'uniformità lessicale delle denominazioni di serie, processi e procedimenti. Questa operazione sugli archivi ha permesso ad agenzia oggi di affrontare le competenze acquisite con una uniformazione, con una linearità coerente di denominazione di processi e procedimenti. Questo è veramente un valore aggiunto che la sensibilità archivistica può permettere di portare a caro. Grazie, grazie Giampiero. Allora adesso possiamo chiamare, può intervenire Gabriele? Gabriele Betti sei stato reclamato, sei stato ringraziato, sei richiamato, sei reclamato, ecco ti qua. Dai Gabriele, lascio a te le conclusioni. D'accordo, molto rapidamente. Ne approfitto anche per dire due cose e riprendere un'osservazione che è stata fatta in chat. Le due cose è che secondo me questa iniziativa e questa esperienza è stata molto interessante per due aspetti. Quello del censimento di situazioni diverse e quello di mettere insieme, forse per la prima volta concettualmente ma anche operativamente, documentazione analogica e documentazione digitale nel passaggio, quindi verificando effettivamente quello che è la costruzione di un archivio ibrido, ma è una visione anche in questo caso di archivio unico che prosegue. Il termine archivio unico, sottolineo che è emerso ieri, ero a un convegno a Venezia, per quello sono arrivato da Venezia a mezzogiorno, quindi mi sono collegato con voi, parlando da parte della Banca Intesa San Paolo, che ha proceduto alla fusione di oltre 500 banche, anche alcune molto storiche con documentazione dal 300, e anche loro hanno fatto un percorso di censimento dei soggetti produttori e costituzione di un archivio unico per poter, con una logica proprio di concentrazione, nel senso di condividere logiche uniche di tutti i diversi sistemi delle banche. Questo dimostra che secondo me è un'esperienza che può essere appunto anche riprodotta in vari campi e in varie situazioni, ma come modello è molto interessante, e questo secondo me è l'elemento significativo del webinar di questa comunicazione, e poi prendo lo spunto da uno che aveva segnalato che è interessante, ci vorrebbe una seconda puntata, e sicuramente sarà una seconda puntata sul tema piano di conservazione, e questo l'annuncio sicuramente, e probabilmente magari ragioniamo anche se approfondire proprio il tema di questa gestione di sistemi complessi, nei vari passaggi di competenze, nei vari fusioni di enti, organizzazioni di situazioni in cui il punto di soggetto produttore si evolve nel tempo e magari entra a far parte di strutture più grandi o si distribuisce in vari modi, sul tema soprattutto anche della gestione degli archivi ibridi. La stessa intesa San Paolo segnalava appunto la facilità di recuperare e di mettere magari in depositi unici la documentazione analogica, ma la complessità di gestire la documentazione digitale nel passaggio di diversi sistemi informativi. Però anche l'avere il censimento e la conoscenza di questi sistemi è un elemento fondamentale per poter poi governare e mantenere anche il futuro documentale, anche di produzione digitale. Io chiudo con queste cose, quindi vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti, ai prossimi webinar, che saranno, vi dico già le date e poi vedrete i titoli, il 22 di marzo e il 19 di aprile. Continueremo su questi temi, quindi ci sarà una seconda puntata. Vi saluto. Grazie Gabriele anche per aver ricordato le date, quindi ci rivediamo presto. Io colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i partecipanti che ci hanno seguito fin qui, quindi anche relativamente tardi, per invitare appunto i relatori a fare un saluto anche magari velocissimo, anche solo per farsi vedere così alla fine ringraziare e salutare tutti insieme. E ringrazio i miei colleghi dello staff che ci hanno consentito tutto questo e ci vediamo al prossimo webinar. Se avete qualcosa ai relatori da aggiungere, se no chiudiamo qui. Allora, niente, solo un saluto. Ringrazio ancora dell'invito perché è stata, ripeto, mi sembra che abbiamo confermato il fatto del buon lavoro fatto insieme, e quindi ci fa estremamente piacere. Quindi, niente, un saluto e un appuntamento quando sarà una prossima occasione. Grazie a tutti. Ciao, Allegra. Arrivederci allora. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto, arrivederci. Grazie a tutti.